bene, Shanghai che ha vinto una volta contro Gregorius, che è questo giocatore di cui stavamo parlando, Bullet e Exxon che hanno finito, quindi rimane Bullet e Talpineta e Roca Base, quindi sono tutti giocatori da mega top tier a parte un paio che sono nuovi ma stanno giocando molto bene nel torneo, quindi noi gli diamo più che il beneficio del dubbio, anzi quindi oggi è delirio riuscire a scalare quest'oggi molto molto, sì staccato ovviamente col CK all'inglese, nel nostro soul il fatto che sia gremito è stacked di talenti sono tutti giocatori che puoi vedere sgomitare per gli slot delle U Master sono giocatori di Sicodia Master di Becchi, e sono giocatori che tra l'altro hanno iniziato ad avere una rischietta esperienza di torneo non solo perché appunto arrivano a competere anche nei seasonal, che quindi stimolano il deck building e il line up building ma perché comunque ora qua, anche se non lo fossero, sono in ballo da 4 settimane questa è la resa dei conti, questa è la boss fight finale prima dell'accesso all'autopotto a ridosso della pace sì, tra l'altro a ridosso della pace quindi hai ancora se vogliamo, ecco questo è un grande dilemma c'è chi dice che sia molto più skill based giocare in questi periodi e c'è chi dice che si affidi troppo al caso io ti porto un esempio di un grandissimo giocatore di CCG e TCG digitali che risponde al nome di David Saero conosciuto ai più come Dog un giocatore che ha vinto su Magic Karina ha vinto su Agenza Voluntarra ha vinto su Warstone ha vinto su qualsiasi videogioco e è noto perché in questi meta qui non è secondo nessuno e arriva sempre al massimo rango possibile del gioco che sta giocando in quel momento e ho motivo di pensare che sì sia è perché in questi periodi ha la meglio chi ha quel quid in più a livello di creatività e theorycraft infatti secondo me non è questione che sia più skillato o meno del meta già navigato da due mesi ma semplicemente mette in ballo skill diverse e quindi c'è gente che effettivamente performa meglio nei meta nuovi e c'è gente che invece è un po' più metodica e preferisce il meta già bello consolidato dove è sicuro di avere quei quattro mazzi che incontri e masteri alla perfezione e sai che riduci al minimo il caso perché sai che quello è l'out che tu hai sempre e comunque è una questione di scelte tra l'altro appunto Dog famosissimo su rune terra perché fu il vincitore del primissimo invitation di Legend of Runeterra fatto per giocatori di Twitch fu il primo in assoluto torneo che aveva delle come si dice delle persone popolari degli influencer a giocare Dog vinse e il suo tweet il giorno dopo fosse wow non ho praticamente mai giocato a questo gioco e ho comunque vinto il torneo e assieme a lui c'era anche altra gente esatto infatti classico da parte sua un mostro di giochi di strategia e quindi ecco ed è la situazione in cui si trovano i nostri ragazzi perché la patch è droppata mercoledì scorso e quindi 4-5 giorni per organizzarsi per testare e per quanto moltissimi degli archetipi come dicevi anche tu scherzosamente prima quella HPA Draven non va a distruggere Draven Sion siamo d'accordo però magari quella HPA Draven apre a dei turni 3 diversi e se prima perdevi on the spot sul Draven a turno 3 giocando Ezreal Karma adesso Draven lo ammazzi di Mystic Shot e il meta prende tutto uno shift che chi se lo va a pensare quindi ovviamente bisogna vedere e che non c'è stato il tempo di vedere quindi si lascia tutto all'intuizione dei giocatori che quest'oggi performano certo e come dicevi tu è particolarmente importante il testing che puoi fare in un ambiente competitivo in cui questi ragazzi fanno assolutamente parte frequentano gli stessi discord hanno modo di testare perché dubito che Bullatt abbia trovato terreno fertile nella ladder per testare quell'abominio anti-scontro quindi sicuramente avrà preso lì il buon Exo e gli ha detto Exo me le giochi 27 partite di iterazioni di darkness control di Bandletree e vediamo se funziona si sono allenati assieme magari cioè questo è tipo fantastico può essere non sapendo ci sarebbero beccati esatto perché comunque ognuno poi ha il suo stile e se il tuo stile va a cozzare con quello del tuo sparring partner è comunque una chance su X che vi becchiate e poi succede sempre che i tuoi compagni di testing li becchi nei tornei questa è la grande legge dei giochi di carte comunque qui non sta procedendo il bracket non ci stiamo nascondendo nulla stiamo aspettando che parta una serie da mostrarvi dal primo mulligan all'ultimo nexus che esplode quindi ci stiamo prendendo qualche secondo temporale abbiamo una novità a proposito si è aggiornato adesso il bracket Talpinator ha vinto 2-0 contro Kabe quindi il match è Bullet Talpinator che chiude la nostra top 8 già a questo punto quindi abbiamo Bullet Talpinator dal basso verso l'alto perché mi piace fare le cose a caso Bullet Talpinator Shanghai Gregorius Crazo Big Octopus Salviteo Lord Von loro sono gli otto giocatori che quest'oggi vanno a gare 3 big punti la zampata Big Octopus all'ultima giornata con 15 punti di top 1 si spacca la classifica ma anche secondo posto gli basta mi sa perché ha già fatto qualche punticino siamo già nel range di giocatori che hanno fatto almeno 3 punti ricordiamo la top 8 e da qui ogni win ve ne dà altri 3 praticamente quindi possono pushare e accumulare un sacco di punti chi fa primo oggi è ancora uno che probabilmente si qualifica perché comunque sia 15 punti sono sempre stati tanti nell'arco delle giornate la media sulle 4 giornate è 12 un primo posto tene da 15 quindi sei above par già solo con una top 1 se non dovesse andare questa top 1 nelle mani di Shanghai e Exo è uscito quindi di Shanghai che è già un altro un altro giocatore che ha fatto top 1 e quindi ha preso questo cash di 15 punti in una volta sola qualcun altro potrebbe rubare la posizione semplicemente col primo posto di oggi un altro octopus ha fatto uno scalpo illustrissimo quello di Attassatou che nella giornata 2 era secondo posto parimerito con Shanghai vediamo quale serie ci ha preparato la nostra regia oh vediamo oh ci comunicano che si tratti proprio di Krazod versus octopus e attenzione perché non c'è la sola mina vagante big octopus che può andare a prendersi una bella batosta di punti e quindi può andare completamente a ribaltare la top 8 ma c'è un Krazod che è messo molto bene c'è un Krazod che è messo molto bene all'interno di quella top 8 alle porte della top 4 se vi ricordo mi faccio sempre la classifica della seconda settimana perché manca ancora l'aggiornamento della terza Krazod era quinto con 12 punti dietro a Migros con 13 e mi pare abbia fatto la tassata Shanghai 16 exon art 18 mi pare abbia fatto l'ottopotto la settimana scorsa e quindi abbiamo avuto altri 3 punti la settimana scorsa non vorrei dire una fesseria ma comunque sia quello che vediamo intanto sul nostro schermo è proprio Krazod contro Big Octopus Big Octopus che schiera un lurk mazzo che ha subito un revamp stilistico in questi giorni incredibile hanno iniziato a giocarlo tantissime persone perché i nerf ha i mazzi estremamente aggressivi con Demacia che i poppy deck che letteralmente ti calpestavano e anche il nerf a Draven comunque hanno ridato l'infa a un altro tipo di midrange che un pochettino straglava che era lì era quel TRB che cercava di snappare fuori dall'acqua visto che stiamo parlando di lurker e non ce la faceva questi nerf che hanno toccato tutti di più del gioco tranne loro gli hanno dato questo spazio per riuscire e adesso la ladder è di nuovo popolata da lurk ed è un mazzo ottimo nella sua versione più aggressiva proprio con quelle 2-1 che vediamo già in campo che possono essere già un punto di scambio importante nella partita perché contro control sono devastanti quando per 2 mana puoi andare a mettere un attaccante che minaccia 5 danni al nexus anche se una singola volta ovviamente vediamo come se lo gioca il darkness qui questo è un deck che mi ha sempre molto affascinato però lo provo a spiegare così poi interverrà eventualmente a gamba tesa soul è uno dei pochi aggro che sacrifica il value in favore del tempo proprio in maniera assurda quindi la prima in bastitura di board che gli fai contro spesso lo caccia dietro una volta per tutte quindi tutti i mazzi alla Draven Sion che hanno tanta ciccia tutti i mazzi con Bendall ma quindi metto anche il Bendall Tree metto ovviamente il Poppy Ziggs sono tutti i mazzi che lo murano e gli impediscono di fare danno è un mazzo che secondo me va molto forte ad aggrare i midrange lenti o i control ma che contro gli altri aggro board centrici viene lasciato proprio nella polvere subito quindi ci sta anche che il meta abbia proprio tracciato questo profilo perfetto adesso per proliferare per il lorch non è uno di buoni match up questi qua secondo me però perché darkness è di quei control deck che oltre a risponderti colpo colpo vanno anche ad avere una discreta dose di board sì assolutamente insomma questa partita nello specifico non si è messa malissimo bisogna vedere se adesso da questi aloof c'è un po' di linfa interessante questo tra l'altro è una aloof che brucia il lucrat 5 mana e dovrebbe essere una bella botta per il mid game di Fidfotten che sappiamo essere il buon octopus sì esatto sì e la aloof qua è veramente forte esatto la situazione è un po' quella i Demacia deck in realtà quelli classici un po' soffrivano l'urk tra l'altro perché erano quei mid range un po' più diciamo statuosi anche loro sì e i lurker di per sé hanno questa tendenza ovviamente a crescere a far lievitare il loro attacco incredibilmente ma lasciare indietro invece i loro punti vita cosa che per Demacia però un 5-2 è quasi uguale a un 5-5 c'è Mena e farà un sacco di danno e tu non hai modo di pingardino di correggere i danni se quando quell'1-1 Fier arriva ad avere 4-5 d'attacco diventa un dolore incredibile per un mazzo Draghi o un mid range demacia più classico o uno Shen Jarvan invece adesso il problema erano proprio i poppy deck che erano molto più a strappo molto più incentrati su quel primo imbastimento di board che dicevi tu e generato il primo attacco veramente pericoloso e preso un trade buono alla prima Relentless la partita era finita e i nerf che sono arrivati a Relentless in particolare hanno dato un po' più di spazio invece a Lurk che ha bisogno di carburare ma una volta che riesce a carburare anche in un matchup del genere che mi sento di dire come hai detto tu che non è proprio il migliore per Lurk comunque sia ad un certo punto c'è un punto di rottura per Lurk quando comincia ad avere l'ercato 4-5-6 volte dove con un mana metti un pezzo che minaccia 8 danni che a un certo punto si mangia qualunque contro quel meccanismo proprio diventa impossibile la prima Rek'Sai che cala e si flippa anche se Rek'Sai viene gestita poi con la vendetta con qualunque cosa il solo riuscire a flipparla chiude il game per l'iniezione estrema di value che vai a fare arriva la Luff viene pescato il Jollfish che viene scartato sullo spot ed è abbastanza una fortuna per Octopus che preserva il suo Lurk era 5 mana il king degli Xersai che è molto più pericoloso di quel Jollfish arriverà molto prima e lo spell shield contro un contro sappiamo che è proprio una bella roba mi è andata bene mi è andata bene e la partita è ancora aperta mancano i generatori di Darkness mancano i campioni a Kradzod per invertire la marcia della partita è quello la filosofia sta lì ora sì mi ricorda moltissimo visto che ormai qua siamo dei sommelier dei card game a tutto tonno mi ricorda tantissimo o il rogue di Hearthstone per intenderci nel modo in cui aggra cioè che lo fa poco per volta on board ma pronto a presentarti delle grosse threat da un momento all'altro oppure stavo pensando se invece passando a Magic mi ricordi di più il Gruul che però sta a terra quindi è un po' più un Demacia qualcosa Gruul forse come paragone oppure se mi ricorda di più il Demir di ritorno di ritorno a Ravnica che sparava i martelloni volanti dopo averli pompati un po' con a me piace a me piace sempre esatto vedere una terra come qualcosa di profondamente diverso da Magic perché quella è la verità è vediamo il Kradzod gioca una tech interessante di Darkness perché gioca le guard quando venne incominciare che è una cosa già peculiare quella guard potrebbe essere tra l'altro un punto di svolta contro l'urk abbastanza grosso se non fosse che è arrivata una Rek'Sai che al momento non ha alcun tipo di risposta quindi alla prossima combat non so se basta siamo a più 3 no non basta ancora la Rek'Sai non è ancora flippabile giustamente però non al prossimo attacco ma quello dopo ancora Octopus potrebbe già pensare di flippare Rek'Sai e se non arriva in fretta una Vengeance o un chiaramente ah no è vero lo sto dicendo nella mano di Kradzod è presente Stress Defense che se Kradzod sta attento sa che la vorrà devolvere unicamente all'annientare Rek'Sai appena appoggia il suo culo da scava a tunnel in campo quindi assolutamente no ma quello che volevo dire è che non è proprio simile a un mazzo di Magick però anche a me ricorda molto il Dimir tempo perché mette questi body che hanno poca vita tanto attacco quindi ti minacciano un sacco principalmente perché tu fai più valore sui control poi il Dimir di Magick lo fa diversamente perché chiaramente abbiamo il blu con i counter il nero con il disruption vario quindi è un feeling diverso ma al principio non è tanto lontano perché comunque sia a un certo punto il control anche se tu hai nel tuo mazzo il modo di gestire quei body piccoli a un certo punto finisci le mosse ma di mosse parlando appunto Krazod qua tira fuori dal cilindro un Veigar quindi attenzione qua la marcia potrebbe cambiare 5 danni intanto gratuiti sulla prima dichiarazione d'attacco del Piranha che scende in bordo strano giocarla in tuttura d'attacco giochi Piranha però ci può stare incastra una buona curva adesso volendo si può ancora giocare Rek'Sai e stavo guardando la mano di Krazod le opzioni non sono fantastiche ok il Vilefist sulla 7-1 era la giocata più ovvia ma stavo proprio anche pensando al timing di quel Vilefist perché è vero che vai comunque a metterti un bloccante forse in realtà l'ordine così è il più corretto possibile perché adesso hai tempo di ragionare con quell'1-1 da chiam bloccare nell'8-6 o chi per esso non so qua probabilmente vai a girare carte adesso no vai direttamente ok a velocità barsta metterlo su 1-6 fretta ok allora infatti questo non so se qua stava Octopus facendo una giocata a tempo un po' strana perché ricordiamo che Lurk si attiva una sola volta a turno e lui l'ha già attivato questo turno attaccando con con il Piranha quindi infatti vedete ora nonostante in cima al deck di Octopus se ci fosse un Lurker si attiva solamente l'effetto di Rek'Sai che potenzia tutti i Lurker quindi ho deciso di farla a tempo per andare a pushare un po' di danno comunque contro un Krasud che sta fidendo le carte ed è abbastanza indietro al momento però secondo me poteva risparmiarsela per il turno in cui poteva andare a minacciare il flip non sarebbe successo niente comunque perché Krasud ha tenuto giustamente la stress defense da parte per andare a rispondere alla Rek'Sai e quindi Rek'Sai risalta nel mazzo in questo matchup capita molto spesso finisce le risorse un po' così il mazzo Lurker diciamo e c'è un Veigar che può dire la sua e la può dire molto forte da qui in avanti giustamente noi siamo dal punto di vista di Krasud non abbiamo visto su cosa ha l'urcato Octopus ma era proprio una spell di Pyke e questo è molto interessante perché adesso abbiamo un modo per rimuovere Veigar c'è la Mist Call però intanto Pyke va e colpisce e al turno dopo può arrivare il Jolfish e col Jolfish colpisce di nuovo e si evolve e potenzialmente pulisce la board quel Pyke tra l'altro appena ha perso Krasud il mano necessario a fare Mist Call dietro a Veigar beh infatti quindi non deve mai poi mai Krasud sbottonarsi e andare alla giocata di Veigar adesso probabilmente non lo farà infatti difficile sto turno anche perché adesso probabilmente ti vedi allora o ti vedi Big Octopus passare con 11 e capisci che qualcosa stia bollendo in pentola che ha solo giocate reattive ovviamente dai quella spell di Pyke a Octopus in mano a quel punto ma se lo stesso Octopus ci ha pruritino le mani e gioca al pezzo 8 e apre quindi al Veigar libero a terra eh quello potrebbe essere l'antipatico secondo me qua comunque la soluzione di combinare il Pyke al pezzaccio 8 è la cosa migliore infatti la tentazione è forte e arriva immediatamente la giocata adesso può arrivare Veigar e può arrivare la dana no Dark Knight non è stata ancora scontata a 2 non è ancora stato giocato un Rob Maker quindi Veigar in effetti può appoggiarsi in board ma giustamente Cazzo rispetta c'è una carta nella mano di Octopus che lì ferma ecco il Rob Maker c'è una mano c'è una carta a sinistra nella mano di Octopus che lì ferma da almeno 3 o 4 turni e questo potrebbe significare agli occhi di Cazzo di proprio quel coltello che non ha ancora assolutamente avuto lo spot per essere utilizzato il bone skewer e quindi potresti avere paura a mettere Veigar perché arriva il bone skewer da parte di Pyke e perdi effettivamente il tuo Veigar on the spot letteralmente e Pyke si salva anche tra l'altro dalla darkness quindi potrebbe essere rischiosa sono curioso di vedere come se eravamo a giocare Crazod alla luce di quello che ho appena detto se sta pensando un tracking del genere a meno che chiaramente adesso Octopus non vada a schiaffare in board il bestione più bestioso di tutti e la board sparisce tra l'altro sono molto belli questi order e questi mind games che si fanno vicendevolmente a questo minutaggio della partita perché sono super significativi i bivi che intraprendono i due giocatori e qui ne abbiamo avuto uno quest'ordine con il quale è stato così cauto a giocare il proprio Veigar Crazod e poi quando finalmente l'ha giocato anche un turno più tardi di quello che pensavamo è stato comunque punito davvero sono poche carte tutte significativissime qui può codare la miscol sulla dichiarazione del darkness ok avrebbe potuto farlo ma alla luce dei buff e dei nerf no alla fine era stato smentito no se avessi intato Veigar avrebbe creato una darkness comunque adesso arriva giustamente il 50-50 lo fai sempre secondo me colpontra chiaramente 50-50 galeotto dal peggior petto dal più piccolo dei tuoi pezzi al più importante ovviamente ogni tanto deve andare male anche ai migliori e arriva proprio il momento peggiore a un torneo ovviamente qua inutile dire ragazzi che se la miscola avessi intanto Veigar staremmo venendo una partita fondamentalmente diversa molto bravo dalla sua octopus ad andare a dichiarare la combat solamente col 5-2 in modo da attivare l'urk e non andare a sprecare punti vita preziosi dei suoi pezzi la strada ora è spianata e salvo questo paluffo è terrificante perché qualora ad essere xai scarterebbe proprio la carta token che si è andato a francare prima però giustamente anche agli occhi di krazo bisogna pescare deve cercare deve trovare sui champion deve finire ma qui l'urk dà al meglio siamo in quella situazione in cui hai controllato la board ce l'hai fatta perfetto ma adesso lui ad umana ti schiaffa in campo dei pezzi che hanno 5-6 7 di attacco e diventa dura e chissà cosa cosa ha predichato 8 pure addirittura e chissà cosa ha predichato perché potrebbe arrivare tranquillamente rexai rexai dalla cima in predict scende come un 10-6 e condurrà la carica dei lurker contro un krazod che è abbastanza corto di soluzioni non quello che voleva vedere dalla cima del mazzo infatti dovrebbe ciampare 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 e poi finirà con non avere un board a forza di ciampare e qui arriviamo proprio a quella cosa che dici tu prima di lurk dove lurk perde tranquillamente tempo la pressure a favore del potenziarsi il più possibile perde i primi trade e recupera la value persa i pezzi persi in combattimenti anche magari non non troppo vantaggiosi per te quando rexai si evolve quando rexai si evolve recuperi tutto perché addirittura qua sono usciti due pezzi uno da due uno da umana che ok magari non sono proprio quello che desideravi però tutti gli effetti è uscito anche solo xarxaret che per 5 mana è la finisher assoluta anche qualora riuscissero a gestire terexai a questo punto ovviamente qua bravo da passare non fare quel guard è fondamentale perché vai a inciccire il tuo mazzo di carte che non svoltano la partita quindi inutili piranha che va a forzare il blocco e qua penso che non hai il problema calare xarxaret a meno che tu non voglia rispettare il rumination e forse ci sta se sei se io octopus rispetto il rumination loro hanno una lista sotto mano ovviamente quindi sanno se c'è da rispettare o meno quel ruination stavo lapsussando sui nomi delle carte perché mi ricordavo pack the bags figurati che è la forma evoluta e stavo mischiando nella mente tutte le carte KDA che ormai uscirono un bel po' di tempo fa beh grascende ma non aiuterà troppo la causa del buon crazzo deve difendersi davvero contro troppe bocche da fuoco tra l'altro ecco una volta che perdi il mano necessario a minacciare la ruination a messo che tu c'era bene il deck l'avversario sa di poter spingere e quindi con l'Xerxarret scenderà probabilmente sarà un colpo del KO imparabile per KRAZOD si assolutamente infatti lo vediamo un 16 che ricordiamo la dichiarazione di combat che l'urchio meno non è importante se ha 8 più di attacco Xerxarret guadagna sopraffare fearsome che è temibile italiano perdonatemi e scudo magico di conseguenza proprio appunto una bomba imbloccabile per control che molto spesso si ritrova così a finire completamente le risorse nei confronti di una value gigante generata da l'urk qua arriva la pack your bags è arrivata però paura che il fatto di essere lenta non darà alcuno spazio a KRAZ di difendersi per un lurk che ritorna risale dagli abissi e riappare in questo meta riaffiora nel meta io sono abbastanza contento ha l'unica pecca lurk di essere un mazzo un po' high roll dove quando gira da dio è una bomba atomica di quelle che manco discarda ai tempi d'oro però nel suo gioco medio è un mazzo molto interessante che a me piace ricco di mind game di scelte importanti ordini come dicevi tu hai molte giocatine cheap belle pesanti perché poi cominci davvero con un mana a mettere 10 di attacco in campo quindi molto molto interessante col predict anche veramente un bel deck ma siamo game 2 game 2 devo dire aggiungo un asterisco una clausola quello che hai detto buono il match up incastrato da questo lurk per il suo debutto perché ha trovato proprio quel tipo di mazzo che risponde pezzo per pezzo ma lurk appunto eccelle nell'andare a creare dei pezzi che per un mana poi meriterebbero risposte almeno da 2 3 4 5 comunque siamo con una bella opener aggressivissima è un po' pdx suppongo dalla parte di vortopus direi poppizx assolutamente innegabile poppizx ha subito qualche nerf abbiamo visto stato il nerf ai tenor of terror che venivano giocati già in monocopia massimo duplice copia in quel deck e il nerf più grosso è quello chiaramente agli stone stacker che da 2-2 tenacia e impatto sono passati ad essere di 2-3 impatto quindi hanno perso sì doveroso assolutamente troppo forti e addirittura hanno perso un pochino di attenzione se vogliamo perché al loro posto sono iniziati ad apparire in questi mazzi il legion granadier quindi il 3-2 che quando muore fa un danno diretto la brio del mazzo è sempre la solida quindi si smorca con passione contro qualunque deck quindi è sempre quel tipo di mazzo lì non è cambiato molto è cambiata un po' la miscela perché non era fatto alcune delle carte più forti ha perso sicuramente dai nerfs che sono arrivati ma è ancora un deck più che utilizzabile un singolo concologo per Kraso da difendersi da già un abbordato da tre pezzi potrebbero essere già cinque danni che arrivano diretti e ingestibili vuole addirittura andare a investire purple berry sì stavo pensando ci fosse il caso d'altronde quando sei così a corto di pezzi da sviluppare nell'early e non hai soluzioni per il t3 e non hai soluzioni per il t4 già nella tua mano forse questo tipo di giocata è quella che sul lungo termine ti tiene a galla e ti salva addirittura la partita e infatti questo sarà un t3 passo per Krasod a fronte invece di un turno 3 in cui probabilmente vedremo di nuovo sviluppo di pezzi nella forma del concologo per il poppy ziggs quindi per big octopus arriverà questo concologo non vediamo ora il risultato molto presto lo vedremo aloof se non altro per Krasod è un body è un body da tra l'altro fa free trade fa free trade dentro al concologo sì vero penso tra l'altro oh invece gioca ancora comunque tenor of terror ho visto che qualcuno lo ha levato altri non si sono usati perché comunque sia mettere due body di quell'importanza sul campo con un mazzo che gioca a poppy è molto importante intanto la spell che è stata discordata da concologo è un sopraffare che potrebbe decisamente cambiare l'esito della partita poppy appoggia i piedini su board e viene immediatamente minimorfato da parte di Krasod è doveroso bravissimo non c'è termine migliore di doveroso in quello spot e comunque i THP sono ridotti all'osso a questo punto hai tancato tantissimo hai visto poche risposte in early game e se sei Krasod stai venendo letteralmente sopraffatto dal tuo avversario che qui con tutti quei danni che si trova in mano oramai si tratta solo di firmare il contratto per questo 2-0 sì quel Might da concologo tra l'altro vogliamo parlare del role spettacolare ehi là pure l'Xero of Rat e l'Xero of Rat da scombare con Might e sono subito Lucian vibes della seconda stagione mamma mia direi che la combo è servita veramente trovato il valalla dell'espel da combattimento per fare danno con aggro già 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 e qua appunto c'è ben poco da fare già solo di open combat ti esponi all'andare a uno di vita con i con i concologi concologi che ti menano quindi veramente poco da dire non puoi rispondere a questo addirittura vai a pescare per sperare nell'impossibile ti tocca accettare il fatto che il tuo mazzo non era decisamente pronto ad un burn interessante il fatto che abbia ricodato questo deck qua che vediamo con Ruination quindi non proprio attrezzato per Ruination a luff quindi non proprio attrezzato per rispondere a quel tipo di burn mi chiedo quale sia il terzo deck di Octopus che abbia diciamo invitato Carazzo da schierare proprio quel mazzo lì quasi un errore di Crazo da codare un deck del genere che sta così tanto sotto burn che poi il proprio zizzo ma super solido che punti tranquillamente a giocare in un game 2 dove stai tu 1 a 0 proprio alla cieca cioè non hai paura letteralmente di niente quindi interessante bravo Big Octopus che si porta a casa una bella parita con l'urk è un altro gran game rapidissimo proprio a strappo con una line up a trazione aggressiva decisamente ma ponderata comunque da parte sua anche questo molto polarizzato per il match up almeno per le partite che poi si sono giocate non conosciamo tutti e tre i mazzi perché siamo arrivati a vederne giocare soltanto 3 in tutto 1 per Crazo 2 per lo sfilante Big Octopus quindi è stato un po' difficile capire cosa è successo lontano dai riflettori probabilmente per Crazo mi viene da pensare un mazzo ancor più controlloso ancor più magari un anti-control ecco una soluzione a mazzi control per non dover giocare dei mirror puri e crudi ma ha mancato di attrezzarsi con un buon anti-varn comunque sia davvero due serie molto polarizzate e lo ha dimostrato il risultato 2-2-0 rapidi veloci e indolori che consegna a Crazo da questo punto una buonissima ipoteca di passare nei primi 8 perché arrivava già con un discreto bottino di punti anche solo alla giornata 2 arrivava con 15 quindi siamo davvero di fronte a un Crazo che è